Ciao, follower! Ho deciso di fare una sorpresa a Ken e di tornare prima dalle vacanze! Ma... shh! Non diteglielo! Dato che è una sorpresa, mi intrufolerò in casa dalla finestra, non dalla porta! Una buona idea, non credete? Piano, piano... E ci siamo quasi... Oh, non riesco a muovermi! Ah! Aiuto! Aiuto! Sono bloccata! Ken! Ken! Oh, ciao! Oh, Barbie? Non ti aspettavo fino a domani! Oh, sì, ma... mi hanno cambiato il volo e... Ciao! Ciao! Questa è Teresa! Mi sta aiutando a prepararmi per il college! È bello fare la tua conoscenza! Ecco le tue cose, Barbie! Oh! Grazie! Ed ecco il mio armadio! È ora di togliere tutte le cose dalla valigia! Cosa sta succedendo? Questo non è mio! Oh, è mio! E perché le tue cose sono nel mio armadio? Beh, ho visto degli scaffali liberi e... È un problema! No, ma... Bene, allora! Fantastico! Non si è nemmeno fermata ad ascoltare! Oh, vabbè! Oh, e perché ci sono macchie sul mio vestito? Non posso crederci! Com'è potuto succedere? Oh, per errore! Ci ho rovesciato sopra un po' di zuppa! Ok, vediamo! Sì, prendo il pollo... La salsa... Il pane... Ti sei presa la briga di provare a lavarlo? Oh, andiamo! Non è così evidente! Lascia perdere! Teresa! Non hai chiuso il frigorifero! Barbie, sembri stressata! Forse dovresti fare un paio di respiri profondi! Ah! Questa è la prima volta che mi imbatto in una tale maleducazione! Follower, forse dovrei darle una lezione? Mmm, ho un'idea! Ci sono molte delle sue cose nell'armadio! Le nasconderò e lascerò che sia lei a cercarle! Metterò tutte le sue cose in questa borsa! E le nasconderò nel congelatore! Finalmente tutto è tornato alla normalità! Bene, bene! Cosa posso mangiare per il pranzo? Ma queste sono... Le mie cose! Oh, sono tutte rovinate! Puzzano di pesce! Oh no! Forse ho esagerato un po'! Teresa, per favore, perdonami! Farò in modo che vada tutto bene! Oh, Teresa, puoi perdonarmi? Non pensavo che ti saresti arrabbiata tanto! Le laveremo bene e tutto tornerà come nuovo! E tu puoi perdonare me! Non pensavo che ti saresti arrabbiata perché ho usato il tuo armadio! Allora, tutto a posto! A posto! Ehi, ho un'idea! Questa metà dell'armadio sarà mia! E questa metà sarà tutta tua! Va bene? Va bene!